C'è una passione che gioca con i nostri sentimenti, ci fa ridere, ci sorprende ogni volta e ci fa sognare ad occhi aperti, ma anche chiusi. È la passione per le grandi storie e da oggi possiamo emozionarci ancora di più. Con la connessione veloce di Telecom Italia puoi avere Team Vision, la tv on demand da vedere quando vuoi, anche da pc, tablet e smartphone. Grazie a tutti.